Pronto papà? Buona notizie, un atto in due mesi, la dieta funziona, sei contento? Papà stasera fino, come ne so? Mannaggia, ogni volta mi fai sto scherzo. Senti papà domani mi accompagna a comprare i jeans nuovi, quelli più stretti. Ah devi vedere la televisione, vabbè papà non c'è problema ci vado io, ti voglio bene. Ciao papà, ciao. Come sono felice. La tua mamma non tornerà mai più. Ciao messaggera di piacere, stasera ti consegno il pacco. Sono 5 e 15 centimetri. Posta cene. Oddio. Sorella, ti ho fatto un regalino. Che cosa giochetta dorata? Calze color carne. È tutto così brutto. Guarda come si muovono. Giorgè? 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 Ma che è questa storia di Mariano Monti e dei tasse? Cioè, mi stavo a guardare a Fox Live, da un certo punto mi si è tolto il canale e mi è comparsa a stare di nuovo a Sky News. Che dice però un sacco di cose brutte sulla vita. Sei capatario Monti. Comunque non fa niente, non ti preoccupa, da te le pago sempre io le tasse. Bravo. Allora tu continua a pagare le tasse e a lava pure i piatti. Che ritorno a giocare. A Xero Factor. Mala Caripò. Che giornata di merda. Francesca! 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 Ma dove c'è? C'è il disco da Davo. Alle sette di mattina, ma? Come mi potevi dire che stavo con altro? L'ho detto che si è messa a piangere avanti. Francesca. Andiamo. Bravo. Guarda che ti ho portato. È bello di fidanzamento, ma l'accelo addosso la mia ex. Sono carino, eh? Sono romantico. I'm Barack Obama. Andi prove this message because I believe we're all in this together. Grazie a tutti.